Allora, in chiusura voglio che tu faccia un discorso finale su questa bella gara, ti è piaciuto? Sì, sono felice, volevo provare anche io qualche volta, ma ne importa, ci hanno visto ben nati tutti, speriamo di vincere qualcuno di questi concorrenti. È bello quando uno si spiega così, la chiarezza è importante, perché poi c'è chi a casa potrebbe non capire. Che imitazione è questa? Lo devo indovinare. Lo dovete indovinare. Aspetta. È una processa a fare. È colpa mia, no? Pronto, ciao, come stai? Tutto bene? Allora? Chi è? Virgola! Chi è? Chi è? Chi è? Uno, due, tre. E' noi? Bravo! No, ma te l'ha detto a te, eh, Nicola. Chi era? Io non ho capito. Nicola era un finocchio. Cioè, ci ha studiato un anno per fare il finocchio. Ce n'è un altro? Nicola, è pronto, è pronto, è pronto. Dovete indovinare un giocatore chi è, eh? Ora imita un giocatore. Dovete indovinare, eh? Chi è? Bravo! Totti, brava! Riccantino e Manola per la segra di chiusura. Conquistami! Stefano Bernati! Leonardo Franceschi! Della serie La Coca ci fa una segra. Vai! Vai! Questa è una base del maestro Silvano Barini. Sembra faccia il carattere, vedi che lavoro. Orchestria Spettacolo Silvano Navini. Guarda che va, eh. In tutte le padele. Silvano Navini Group. Pensa che ogni volta che vincendono una porca, tirano a testa. Grande Rizzardino! Questa è lì! Questa è lì! Questa è lì! Questa è lì! Qui va? Grazie a tutti! Questa è lì! Questa è lì!